Il Coro Castel, sezione SAT di Arco, nei giorni scorsi ha eletto i suoi nuovi amministratori e ha accettato le dimissioni di Enrico Miaroma, direttore da 14 anni. Non c'era più un clima sereno, ha commentato il direttore. 14 anni sono un periodo lungo, è ora di cambiare pagina. Il direttivo conta ora membri freschi, volti nuovi e nuova linfa. Il Coro Castel è un'associazione che lavora per il territorio e con il territorio e continueremo a farlo, ha commentato Paolo Simonetti, il nuovo presidente. Abbiamo incontrato anche il nuovo presidente della SAT Massimo Amistadi, per consolidare i rapporti e sviluppare nuove iniziative per quest'anno, insieme e in amicizia e allegria. Il Coro, oltre alla sezione adulti, da qualche anno ha una sezione dedicata ai piccoli e da poco ha creato anche un gruppo corale che porta il nome Livia, composto da sole ragazzine, una novità assoluta per la coralità alpina.